Cari amici dell'Antidiplomatico, oggi siamo in compagnia della professoressa Diana Carminati, già docente di storia dell'Europa contemporanea all'Università di Torino e autrice di diversi libri sull'occupazione coloniale della Palestina, tra cui Esclusi, Gaza e l'Industria Israeliana della violenza, La globalizzazione neoliberista del colonialismo di insediamento. L'ultimo libro in uscita è Come si liquida un popolo, la normalizzazione della questione palestinese. Diana Carminati si è occupata di progetti a Gaza City insieme ad associazioni e istituzioni. Allora professoressa, anzitutto buongiorno, da quello che vediamo a Gaza si sta cercando di cacciare i palestini palestinesi a impor cessarsi della terra o si tratta solo di combattere a masso con mezzi abbastanza discutibili? Quello che tu dici non è che sia, cioè non è che sia così diffuso, quello che è diffuso semmai negli ambienti che più, più che più, sono più informati. Io ho quell'impressione, non posso dire che sia vero anche perché due milioni di persone non le puoi. Intanto un progetto è quello di eliminazione e lo vediamo perché stanno ammazzandone tanti, non così tanti però abbastanza, tanti bambini eccetera. Quello che dici sì potrebbe essere, potrebbe essere infatti uno dei progetti che i governi israeliani hanno da tanto tempo. Perché il progetto israeliano non è quello che continuano a dire gli attivisti in Italia e anche fuori quello dell'apartheid. Non lo è. È quello che io tra l'altro ho detto spesso anche in un convegno che mi è stato a Torino molto contestato. È quello del colonialismo di insediamento, cioè espellere o eliminare, occupare più terra possibile. Soltanto che questa cosa, questo progetto, primo nella narrazione ufficiale non c'è. Secondo, quello che io rilevo molto è che nessuno in Italia, soprattutto in Italia, ha mai studiato che cos'è veramente il colonialismo di insediamento. Noi abbiamo avuto la fortuna di contattare, entrare in contatto con Lorenzo Veracini e quindi con tutti gli studi sul colonialismo di insediamento e lo abbiamo messo in questo, lo abbiamo pubblicato, lo abbiamo attraverso tutta una serie di studi di studiosi. Abbiamo seguito anche due convegni di studiosi in Inghilterra proprio sulla Palestina come progetto di colonialismo di insediamento, che è quello che è stato fatto negli Stati Uniti, prima di tutto in Australia, negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e in Canada, e cioè quello di buttare fuori dalle terre, perché questa è la mia terra, che era una terra nullius all'inizio, proprio all'inizio, 1600, 1700, 1800, questa è la mia terra e tu non è l'apartheid, cioè io sono qui, lavoro e la terra è mia e ti faccio lavorare. No, questa è la terra mia e tu te ne devi andare. Tra l'altro io una settimana ma neanche quattro giorni fa ho visto una videata sulla, in televisione, non mi ricordo più quale canale, in cui c'era questi soldatini israeliani su una spiaggia già di Gaza e c'era uno, un sargentino, che diceva guardate questa è la nostra terra, questo è chiarissimo. Si innesta quindi un discorso di istruzione, di come si educa quello che è comunque, certo è nato lì ma è un colono, come si educa a far sì che bisogna buttarli fuori o eliminarli, perché quelli sono un altro, a parte che qualcuno dice di loro, dice anche che non sono esseri umani, come si diceva e come ho scritto anche nell'ultimo libro, non sono esseri umani, sono altri e quindi questo altro va buttato fuori. Ma questo, questo io per i miei pochi studi sulla Palestina l'ho scoperto dieci anni fa, questo era stato scritto già in un diario di Eteodor Herzl il 5 giugno del 1895, dice abbiamo deciso che la terra di Palestina è la nostra terra e dobbiamo tornarci e quindi quelli, la gente, attenzione, la gente povera, aspetta che chiudo qui perché non voglio che mi, vabbè, non rispondo. E quindi la gente povera, i poveracci li dobbiamo buttare fuori out of the border, beyond of the border. Quindi già nel giugno del 1895 Herzl diceva dobbiamo buttarli fuori, per gli altri vediamo se riusciamo poi a metterci d'accordo, per gli altri cioè i signori, quelli che abitavano magari già a Beirut, che avevano le terre lì ma non abitavano più, quelli che abitavano lì o erano non umani, la terra era nullius e quindi noi quelli lì dobbiamo buttarli fuori, out beyond of the border. Quindi tutto questo discorso di Israele e del ritorno è un discorso che non parte soltanto dal 1948, parte dai primi, dai primi coloni che sono arrivati in Palestina. Certo, certo, no, molti sono arrivati perché era meglio riuscire a trovarsi un luogo dove stare finalmente ed essere ebrei in una terra che era stata nei passati secoli loro, abitata da loro, abitata con altri, abitata con tutta una serie di altre popolazioni, arabi, drusi, eccetera. E quindi non era tutta loro. Questo è quello che nessuno, alcuni sanno e nessuno dice perché questo è il discorso. Il discorso è del progetto di sette coloni. Tra l'altro alcuni studiosi dicono che il progetto è quello di andare, di creare la grande Israele da Sinai alle Eufrate. Non ci sono riusciti, ma questo è nel progetto, tra l'altro, degli ultra-autodossi e in questo caso particolare, in questo governo, ma è sempre stato. Bisogna ricordare un'altra cosa che io contesto, contesto, se è possibile contestare, che tutti i giornali, giornalisti, media, eccetera, partono dal 7 ottobre come se questo fosse il momento X in cui, ecco, vedi, Hamas fa queste cose. Nel libro che noi abbiamo scritto prima di esclusi, cioè Gaza e l'industria israeliana della violenza, uscito sempre da Deriva Prodi nel 2015, uscito nel giugno del 2015, noi avevamo già lavorato e denunciato, tutte, e enunciato, non denunciato, denunciato e denunciato, e enunciato gli assalti, le aggressioni degli israeliani nel 2008-2009, nel passaggio tra 2008-2009, nel 2012, altra aggressione senza che non ci fosse stato nulla da parte dei gruppi, dei combattenti, non solo di Hamas, perché parlano sempre soltanto di Hamas, ma con Hamas le altre fazioni sono il jihad islamico, sono il fronte popolare di liberazione nazionale, sono il fronte democratico, quindi ci sono altre fazioni che sono la resistenza contro questa, perché il discorso è anche grosso, attenzione, quindi io contesto questa cosa del che non si parte solo dal 7 ottobre, bisogna vedere tutto quello che è successo prima, si può partire dal 67 e quindi sono 56 anni, ma si può partire anche dal 48 quando c'è stata la NACPA, la vera, 700 e passa 1000 buttati fuori. Quindi questo è prima cosa. Seconda cosa che io contesto, oltre a quella del 7 ottobre, Hamas, Hamas gruppo terrorista. Allora, io riprendo un libro che adesso sta per uscire di nuovo in una seconda edizione rinnovata è quello di Paola Caridi, sua Hamas. Paola Caridi ha scritto un libro di storia di come nasce il gruppo. Non sto a fare qui tutta la storia precedente di gruppo che operava anche come gruppo di attivismo, non solo religioso, ma anche di aiuto ai poveri della zona di Gaza. Ma Hamas, come gruppo armato, decide di adottare una linea anche politica. e la linea politica viene accettata da tutti i gruppi nel 2005 per partecipare alle elezioni amministrative, ma soprattutto politiche del gennaio 2006. Attenzione, viene accettato anche dall'Unione Europea questa partecipazione, questa conversione del gruppo, che era un gruppo anche armato ma non solo, viene accettato dall'Unione Europea, viene accettato dagli Stati Uniti, da Israele, dalla CIA e quindi partecipa alle elezioni del gennaio 2006 come partito, che si chiama Partito di Change and Reform, Cambiamento e Riforme. Io sono stata come una delle osservatrici internazionali nel gennaio 2006, a Gaza proprio, nel nord di Gaza, e ho visto come si sono svolte le elezioni, nel modo democratico come si svolgono in Europa. e i seggi, tutti completamente ordinati. Tra l'altro avevo degli amici che sono stati anche nella zona Gaza Sud e tutti e due abbiamo... Poi la delegazione era una delegazione italiana organizzata da Action for Peace, quindi non c'era nessun tipo di discorso radicale, eccetera. Quindi io ho visto da vicino, tra l'altro, come noi entravamo come osservatori nelle scuole ed eravamo... avevamo da una parte e dall'altra, mi ricordo benissimo, le bandierine di Fatah, di Hamas e del fronte popolare rosse, gialle e verdi che sventolavano vicino a noi e non c'era nessun scontro fra di loro. Ha vinto Hamas. Io ho partecipato anche allo spoglio dei seggi proprio nell'ospedale Shifa e vicino a me c'erano degli osservatori americani anche, quindi tutto è stato regolare. Era inaspettata questa vittoria assoluta, benché si sapesse già che non avrebbe vinto Fatah perché Fatah era, secondo i palestinesi stessi che noi avevamo contattato, visto, era completamente colluso attraverso tutti i fondi e i finanziamenti con i governi israeliani e quindi certo questo è stato uno shock anche per intorno a me e tutti gli attivisti di Action for Peeps. Lo ricordo, vicino a me alla mattina a colazione c'era Alessandra Mecozzi ed era completamente fuori di sé di questo fatto. Vince Hamas e questo era il gennaio del 2006, passano dieci mesi e comincia a costruirsi una reazione che finisce in un tentativo di colpo di Stato da parte di Fatah attraverso chi? attraverso quello che era il capo dei servizi di sicurezza di Fatah che si chiama Mohamed Dalan che era di Gaza ma che poi era passato con l'altro capo dei servizi di sicurezza di Fatah Jibril Rajoub che c'è ancora, Mohamed Dalan adesso è consulente in Arabia Saudita di Bin Salman, Mohamed Bin Salman, questo per dirti il tipo. Quindi questo colpo di Stato contro Hamas viene condotto nella primavera del 2007 da quel momento Hamas diventa gruppo terrorista i suoi parlamentari perché poi e questo lo dice molto bene la Paola Caridi non era un gruppo soltanto di armati erano professionisti, erano avvocati, erano medici quello che aveva cercato, Anier aveva cercato di costruire un gruppo politico e aveva cercato di fare addirittura un partito monocolore un gruppo monocolore per riuscire a governare In Cisgiordania la metà, anzi tutti i parlamentari di Hamas finiscono in galera subito, quindi non si può più far niente quindi dal giugno poi del 2007 iniziano i bombardamenti ricordo a chi non ricorda, siamo nel 2007 nel 2005 Sharon aveva fatto venire via tutti i piccoli, le piccole colonie due, due colonie, Nezzarine, un'altra che non ricordo io ero là perché io sono stata là nove volte dal 2003, 2004, 2006 e poi non ci sono più stata passando da Erez ma sono stata passando dall'Egitto quindi è chiaro che non c'erano più queste piccole colonie e a quel punto nel momento in cui Hamas vince il colpo cioè blocca il colpo di stato di Mohammed Al-Alan diventa terrorista e viene, come dire, assediato completamente da Israele, terra, mare, cielo c'era stato un piccolo, il tentativo c'era stato costruito un piccolo aeroporto vicino piccolo a Rafah, viene distrutto immediatamente e quindi l'assedio è completo quello che Ilan Pappe poi ha definito è la più grande prigione a cielo aperto del mondo quindi queste sono le cose che i giornalisti qualcuno dovrebbe dire non è solo il 7 di ottobre io poi il 7 di ottobre non so cosa sia successo non l'ho ancora capito si capirà come tanti dei nostri avvenimenti in Italia magari fra 20-30 anni, non lo so Ecco, perfetto, grazie la seconda domanda è appunto quali sono i tratti caratteristici del colonialismo di insediamento? Allora, non sono facili da definire perché lo stesso Veracini ma anche poi altri Veracini è italiano che sta a Melbourne vicino a Melbourne ma poi altri altri studiosi palestinesi lo hanno definito un sistema ibrido un sistema ibrido non ancora non ancora ben definito perché in esso ci sono sia una parte di apartheid apartheid comunque in Cisgiordania un sistema di colonialismo e un sistema di colonialismo di insediamento e il sistema di colonialismo di insediamento è io lo chiamo sempre progetto perché i nativi non se ne sono ancora andati perché i nativi sì sono eliminati spesso massacrati eccetera ma non se ne sono ancora andati quelli che sono in che sono nati lì israeliani ebrei ma io li considero ebrei a livello culturale a livello di origini familiari ma non di razza perché tutti parlano come se fossero di una razza la razza le razze non esistono e quindi e quindi quelli è chiaro che sono nati lì e si considerano nativi c'è quindi questa mescolanza l'unica cosa da dire cioè fra le tante è che gli israeliani hanno tutti i diritti soprattutto a partire adesso i i i non ebrei in Israele non hanno gli stessi diritti gli arabi palestinesi in Cisgiordania ancora meno diritti e soprattutto questo sistema ibrido cosa ha costruito questa è una cosa importante da dire più che definire il progetto di insediamento che è solo un divenire però è un progetto la cosa più interessante che si ricollega anche al discorso che tu non hai ancora fatto ma che è quello che tutti domandano i due popoli i due stati ecco io vorrei chiarire un'altra cosa il fatto che perché infatti nel libro che sta per uscire dico perché tutti continuano a dire prima e adesso ancora di più bisogna costituire due popoli i due stati non so nemmeno se sarà possibile costituire due popoli i due stati ma perché continua quella che viene chiamata l'industria della soluzione due popoli i due stati ormai è chiamata l'industria perché questo questa cosa pochi lo sanno perché l'Unione Europea che finanzia in gran parte in Cisgiordania con l'ANP finanzia come si può dire il sostegno il sostegno la vita dei palestinesi non solo paga gli stipendi in Cisgiordania un 40% della popolazione vive perché il capofamiglia è stipendia è un appartenente ai servizi di sicurezza che sono non ce ne sono uno solo ce ne sono molti diversificati e gli stipendi vengono pagati e poi vengono pagati gli stipendi i salari dei di tutta l'amministrazione medici insegnanti eccetera allora c'è tutta un'economia siccome non funziona l'economia poiché la Cisgiordania è divisa in piccole bantustan chiamiamoli ormai in Cisgiordania ci sono Cisgiordania 500.000 coloni Gerusalemme Est 200.000 quindi in tutto sono già 700.000 e i palestinesi sono chiusi con strade per cui ad esempio loro non possono passare sono chiusi in piccoli appezzamenti di terreno in piccole case tranne Nablus Genin Ramallah Ramallah Stan eccetera e però l'economia è un'economia supportata è un'economia che non funziona direttamente perché è un'economia che si può chiamare di sostenuta per i bisogni della popolazione dall'Unione Europea Cisgiordania dall'altra parte da circa dieci anni da cioè Gaza da Qatar e altri che non lo so comunque è un'economia che non che non può che essere che non ci sono anche delle aziende private ma la maggior parte è un'economia che sostiene i bisogni e quindi c'è una industria di sostenimento dei bisogni perché così si domina l'intera popolazione è un'economia di sostegno per il dominio di quella zona di quel territorio per il dominio e anche per un certo tipo di complicità di collusione con i disegni del mondo occidentale dell'imperialismo del del neoliberismo tant'è tant'è che mi dimenticavo subito dopo il colpo di stato del 2007 chi è che viene a fare il premier in Cisgiordania per Fatah nominato da Abu Mazen viene un signore che era la World Bank e e quindi viene e fa la Pax economica con Israele quindi viene poi nel 2012 2013 viene poi finisce il suo mandato e quindi Salam Fayad quindi capite che il problema del di come cosa faranno per costituire i due popoli i due stati cosa faranno dovranno potranno cacciare settecento cinquecento diciamo colonie israeliane abitate soprattutto attenzione da ebrei ultra ortodossi e quindi questo è un altro problema non 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 so non so come sarà possibile cacciarli e quindi come si fa uno stato veramente libero 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 economicamente libero di confini con un aeroporto con un esercito anche che sia un esercito però libero uno stato veramente che può operare se è possibile parlare di libertà anche non solo in Europa ma in quello che è l'attuale Medio Oriente quindi questi sono i veri problemi bene grazie come si liquida un popolo è il titolo del suo libro sulla normalizzazione della questione palestinese anzitutto come si è normalizzata la questione palestinese e perché la soluzione due popoli due stati ormai inapplicabile io avevo in mente sono stata 16-18 anni a lavorare per questa piccola associazione che aveva Alfredo Tradardi io ero già stata per il conto mio e ho fatto le esperienze che ho fatto in questi 18 anni sono stata la ma ho molta esperienza qui e quello che io volevo scrivere quello che volevo soprattutto tirar fuori non era tanto tutto quello che ti ho raccontato quanto perché qui in Italia non si è riusciti a fare un granché allora che mi chiedevo guardiamoci dentro noi occidentali guardiamo perché non siamo riusciti poi dopo mi sono anche ho anche capito molto perché non ci si riesce però in parte c'è una nostra non c'è anche complicità certo ma per molti c'è stata un modo di agire un modo di fare attivismo molto ingenuo e da una parte c'è un discorso che io non sono riuscita a fare molto bene che è di psicologia delle masse psicologia dei gruppi perché è che però questo non è soltanto dell'attivismo palestinese perché c'è ci sono masse che seguono i leader senza porsi mai domande quando se le pongono vengono emarginati vengono espulsi a me è successo due volte eccetera e quindi c'è sempre un come dire un potere che arriva dall'altro e che decide le linee politiche questo è la seconda cosa e no da questo deriva il fatto che ad esempio quello che poteva essere fatto e adesso infatti vedo che c'è un'assemblea a Roma a domenica prossima che poteva essere fatto e che era stato chiesto dagli attivisti palestinesi ed era stato chiesto di fare boicottaggio no nel 2005 boicottaggio di Israele finché 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 c'erano i tre basic rights finché non si fosse fossero stati tolte tutte le colonie finché ci fossero stati la possibilità di dare uguali diritti ai palestinesi che abitano in Israele e finché potesse esserci il ritorno dei espulsi dei profughi dai vari altri paesi e bisognava fare questo boicottaggio questa cosa è stata chiesta questo appello è stato fatto nel 2005 allora io siccome ho vissuto proprio tutto questo periodo e noi con la nostra piccola associazione poi abbiamo fatto dei lunghi tour abbiamo invitato Omar Barguti e altri abbiamo fatto seminari convegni eccetera per informare al massimo la quelli che naturalmente volevano essere informati altri attivisti come si poteva fare il boicottaggio allora questa azione perché il BDS era poi boicottaggio disinvestimento e sanzioni io ho partecipato a Bruxelles alla prima riunione alla riunione e subito no il boicottaggio non si può fare al massimo si possono fare le sanzioni le sanzioni le fanno i governi noi non possiamo farli questa questo queste questa politica del BDS come è stata chiamata è andata avanti per due anni ci sono stati almeno cinque o sei incontri riunioni assemblee a Ginevra ad Atene a Parigi a Montpellier io ero stata con Alfredo a Montpellier eccetera e non si è riuscito a fare un granché si è riusciti alla fine al convegno di Bibbao nell'ottobre del 2008 ad accettare che si potevano fare boicottaggi solo nei territori nei prodotti con i prodotti dei territori occupati e nient'altro mentre il Forum Palestina nel 2000 aveva già iniziato a invece a dire facciamo sanzioni su tutti i prodotti israeliani qui invece si decide e lo chi lo decide è il Comitato Europeo ECCP Comitato Europeo per la Palestina lo decide la cui io la chiamo la cupola dei moderati che non vogliono disturbare e dar fastidio non lo si deve dire ma lo dico alle comunità ebraiche europee e quindi si sceglie questa formula di prodotti dei territori occupati e poi ciascun paese di ciascun movimento di ciascun paese lo farà secondo la sensibilità del contesto ma a tutto questo e io l'ho visto soltanto dopo perché poi ho letto un libro di Omar Barghouti vengono convinti anche gli attivisti palestinesi che hanno capito che non si poteva far altro e se non si poteva firmare allora c'è da allora ci sono state dal 2008 in poi timide campagne di boicottaggio qui lì e là ma tu vedi come è andato avanti assemblee eccetera noi abbiamo continuato come piccolo gruppo di Smitalia a seguire il boicottaggio totale siamo stati emarginati buttati fuori da tutto eccetera eccetera poi mentre tutto questo succedeva siccome poi io ho fatto una ricerca abbastanza approfondita mentre si cercava di fare il boicottaggio dall'altra parte viene fuori attraverso come si dice l'analisi di tutti gli accordi che le regioni nelle province italiane hanno fatto accordi dal 2002 2003 io prima non le avevo viste io ho fatto una ricerca fino al 2013 furio l'ho chiamata furiosi accordi commerciali culturali con le università e militari con Israele allora capisci che anche questo boicottaggio è fallito proprio perché ovunque non parliamo dei politici non dico di destra parlo dei politici di sinistra hanno sempre reso omaggio prostrati davanti a delegazioni di universitari di Torino che andavano in delegazione ad Aifa a Tel Aviv eccetera e si prostravano davanti ai loro corrispondenti israeliani allora come si fa allora io ho denunciato queste cose nel libro le ho raccontate non denunciate raccontate io sono una storica come testimone di quello che è successo tu mi hai chiesto come seconda domanda come si farà questo non te lo so dire perché adesso cosa succederà non lo so e non so come sia io dico solo come è possibile rendere libero uno stato di Palestina libero libero dagli insediamenti libero come confini libero come economia questo è un credo che sia un problema che sarà poco risolvibile specialmente in una fase della globalizzazione come adesso finché qualcosa non 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 si romperà in questo discorso del neoliberismo ma sarà credo di secoli e i palestinesi continueranno ad essere tra l'altro anche abbandonati dai loro dai loro amici colleghi non so come dire popolazioni dei paesi arabi perché anche loro sono non sono completamente ricattati l'unico ricatto che loro possono fare è quello del petrolio bene ringraziamo la professoressa Diana Carminati per il suo contributo e ci aggiorniamo ad una prossima puntata di interviste antidiplomatiche grazie grazie